... ...dai! Non fermarti! Dritto, vai dritto! Sto facendo, sto facendo! Sto facendo! Sto facendo! Io ti rovino! Vai! 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 vai giù! giù! stai giù! allora? adesso come la mettiamo? come la mettiamo? sai che cos'è questo qua? sai cos'è? un computer muoviti dai forza ok faccio subito faccio subito stai calmo! togli tutti i dati! tutti! vai! io ti rovino pezzo di merda! come tu hai rovinato me! era il mio lavoro ok? la gente fa... cancella tutti i dati! tutti devi cancellarli! cancella tutti i dati! un secondo! un secondo! guarda per colpatori fino al fatto io! guarda! guarda! vai! ho finito! ho finito! senti io non avevo idea che la gente quella che mi pagava voleva solo rovinarti la vita ok? io facevo solo il mio lavoro! rovinare quale vita? la mia! non la tua! la mia! la mia di vita! sai perché ho fatto che cosa sono diventato io? che cosa sono? un mostro! un abominio! aspetta un minuto! aspetta un minuto! oh! aspetta un minuto! ho fatto quello che volete ok? ho fatto tutto quello che volete! andiamo! mettila via! lasciami andare! andiamo! sai quella cosa bella? che le merda come te vivono in eterno! perchè la cattiveria è eterna! sparisci vattene mia! sparisci! anche con il nostro seemsa hai ovuncino! fraisci! unbl er? yeah! ad iet